Abbiamo iniziato questo percorso circa tre anni fa e per noi è stato un percorso importante da portare avanti perché siamo già un'area protetta, quindi già conserviamo la biodiversità sia animale e vegetale ma soprattutto anche la biodiversità culturale dei nostri territori e nell'ambito di questa biodiversità un aspetto importante è dato proprio dagli aspetti geologici. Quindi il nostro è un parco importante, siamo su 75.000 etteri, 39 comuni e sugli aspetti geologici devo dire che all'interno delle nostre montagne sono state ritrovate rocce di 190 milioni di anni pensate un po', così come abbiamo 115 grotte carsiche, almeno 10.000 litri di acqua risorgiva ecco questa è una cosa importante, quindi il parco che tutela soprattutto anche l'acqua che è un bene prezioso per l'umanità l'acqua che noi poi beviamo, l'acqua della Maiella arriva a tutto l'Abruzzo meridionale ma spesso arriva anche alle altre regioni, pensiamo all'imitrofe, pensiamo quindi al Molise e alla Puglia e poi un parco che è stato sempre interessato dagli aspetti anche minerari quindi noi nel nostro territorio abbiamo le decine di gallerie dell'ex minieri di bitume e pensate che a livello mondiale il territorio della Maiella è stato il secondo al mondo ad aver ricevuto una concessione petrolifera, la prima negli Stati Uniti e la seconda sulla Maiella, diciamo nell'Ottocento ecco, quindi questo è molto importante, quindi questo percorso in qualche modo porterà un turismo sostenibile incentrato appunto sul, in particolare il geoturismo, quindi incentrato sugli aspetti geologici del parco e questo credo che è proprio quello che un parco nazionale deve fare Il parco nazionale della Maiella ha dei beni geologici di inestimabile valore, 95 giositi, 22 di interesse internazionale e questi sono anche quelli che vediamo tutti i giorni, paesaggi, le sorgenti e altre cose che magari apprezziamo ma non sappiamo che hanno anche un valore geologico è conosciuto tra gli studiosi in tutto il mondo e questo sarà insomma per la candidatura una cosa veramente importante e andiamo a sviluppare il geoturismo e quindi il turismo sostenibile qualcosa già stiamo facendo da anni anche con lo speleoturismo nelle grotte infatti abbiamo un progetto Interreg sulle grotte da cui stiamo lavorando più o meno contemporaneamente anche alla candidatura e quindi ora speriamo bene perché sarà sicuramente qualcosa è un titolo ormai dal 2015 pari a patrimonio mondiale dell'umanità e nelle statistiche risulta che dopo patrimonio Geoparco è quello che dà più turismo sostenibile alle aree che ottengono come titolo